E mentre siamo in attesa di scoprire quindi chi ci ha inviato questa rosa stamattina al nostro 331 737 8033, come vi ho più volte anticipato, sono davvero felice di avere con me in studio stamattina Orazio Armillotta, il fotografo appassionato di orchidee che ormai da qualche mese ci sta accompagnando sulle lande garganiche di questo promontorio straordinario alla scoperta delle orchidee spontanee del Gargano appunto. Buongiorno Orazio, ben trovato. Ben ritrovati e grazie dell'invito. Oggi sei ecco in una veste diversa da quella che siamo abituati a vedere ogni martedì con le nostre pillole sulle orchidee. Ti senti più a tuo agio oggi con la giacca o nelle lande garganiche dove fai i tuoi scatti alle orchidee? Assolutamente no, mi sento più agio in natura che magari in uno studio, però insomma non posso lamentarmi, sento bene lo stesso, cerco di adattarmi. Tra l'altro la natura, almeno questo è l'effetto che fa su di me, ma credo che sia un sentimento molto condivisibile, restituisce molta serenità, quasi una sintonia non soltanto con appunto la natura che ci circonda, ma anche con noi stessi, fa anche su di te questo effetto? Certamente, la natura, anzi magari se uno ha degli impegni lavorativi, familiari e vuole magari scaricarsi un pochino, basta fare due passi in natura e soprattutto qua poi nel Gargano che abbiamo dei posti meravigliosi, paesaggistici, c'è il mare, c'è la montagna, c'è la foresta umbra, ci sono le orchidee, ci sono tantissimi insetti, ci sono tanti, la flora, la fauna è veramente molto ricca. Tanti tesori da scoprire, mentre stiamo parlando alle nostre spalle, ecco, sta andando in scena qualche immagine, poi vedremo anche qualche scatto che hai realizzato tu stesso su quelli che appunto sono gli scenari di questo promontorio, qui eravamo insieme solo qualche giorno fa nella valle di Carbonara, proprio sotto Monte Sant'Angelo, dove ci hanno accolto tante splendide orchidee. Dicevamo tu sei un fotografo e un esperto di macrofotografia, come nasce questa passione per la fotografia? Beh innanzitutto per essere un macrofotografo devi prima diventare, essere naturalista e la passione per la natura, per gli animali, per le piante è una cosa che mi accompagna da bambino. Magari ecco i miei amici da piccoli andavano a giocare a pallone, facevano le partite, invece cercavo di convincere altri miei amici che poi mi hanno seguito e mi seguono ancora adesso, a scoprire posti naturalistici, insetti, piante e quindi poi la passione ha continuato e si è evoluta nella fotografia. Perché io ragiono così, apposta di portarmi ad esempio a casa un insetto, una farfalla, un'orchidea, che non si può assolutamente, anzi bisogna proteggerle, io tramite uno scatto mi porto a casa proprio il soggetto. Ecco, è nata così la mia passione. Tu sei originario di Monte Sant'Angelo, poi per ragioni di lavoro hai trascorso molto tempo proprio in Emilia Romagna, di cui in questi giorni abbiamo parlato tanto, a Modena e anche lì andavi a caccia di orchidee, ma c'è una certa differenza tra la popolazione di orchidee modenesi e quella garganica, ce la vuoi spiegare? Certamente, per farvi capire il genere di orchidee più importante che si trova sul Gargano sono le ofris, per farvi capire a Modena ci sono sei specie, sono stato a Modena quasi 30 anni e ho girato tantissimo, ho trovato solo sei specie, invece sul Gargano ce ne sono 34 e quindi poi queste ofris si ibridano tra di loro e creano degli esemplari unici quindi non solo 34 specie, ma anche tutti gli ibridi che arriviamo quasi a un centineo di individui che ci si trovano solamente sul Gargano. E noi abbiamo spiegato tante volte, proprio grazie alla rubrica condotta da Orazio Armillotta che uno, le orchidee non si toccano, ma si possono fotografare e ammirare perché sono specie protette e due, che appunto sul Gargano non è un caso, ecco che la rubrica si chiami orchidee spontanee del Gargano perché il Gargano è quella porzione di territorio che per quanto molto piccola rispetto all'area europea vede condensate su appunto questo territorio così piccolo l'85% delle specie di orchidee presenti in tutta Europa con alcuni anche endemismi. Che cosa sono gli endemismi Orazio? L'endemismo praticamente si riferisce a una specie presente solamente in quell'ambiente e basta in un nessun altro posto al mondo. Sul Gargano ci sono tantissimi endemismi, ad esempio. Questo rende appunto il nostro promontorio una meta privilegiata di appassionati di tutto il mondo. Certo, non di rado quando vado in giro per i campi a cercare orchidee, mi imbatto proprio in gruppi di tedeschi, inglesi ho trovato dei giapponesi che venivano sul Gargano a fotografare le orchidee, incredibile. Io racconto spesso una cosa che è capitata a me solo l'anno scorso, eravamo su Montesacro e ho incontrato un australiano a caccia di orchidee, cioè per fotografare, tra l'altro aveva anche il centimetro, misurava un po' tutte le particolarità delle orchidee, che aveva una guida francese che vive a Panama. Per cui ecco gli incontri straordinari che si possono fare sul Gargano, per quanti sono sulle tracce delle orchidee. Nel frattempo la nostra regia ci sta proponendo, oltre che delle immagini e anche delle foto, in quella che vediamo alle nostre spalle, è proprio quella successiva, poi magari ritorniamo su questa. Ecco, c'è una farfalla, mi auguro che sia una farfalla perché non sono esperto di insetti, che è proprio su un'orchidea. Ce la vuoi raccontare questa foto? Certamente, allora prima di tutto la farfalla è una zerintia cassandra, è una specie primaverile, già in questo periodo già non c'è più, quindi bisogna avere, per trovarla bisogna, ecco poi per fare il macrofotografo naturalista devi sapere anche il periodo di volo delle farfalle. Questa cosa per trovarla va in volo tra marzo e aprile, e forse anche all'inizio di maggio, ma adesso già non c'è più. Invece il posatoio, in questo caso un'orchidea, è un ibrido tra spettacolare, tra neotinia ustulata e neotinia tridentata. Bellissimo esemplare. Di quest'ibrido parlamo proprio una settimana fa con appunto la nostra rubrica Orchidee spontanee del Gargano. Come stiamo vedendo da questi scatti, se ritorniamo anche a quello precedente, e come stavamo dicendo, ecco, non fotografi solo orchidee, ma anche insetti, che tante volte passano inosservati, appunto, se non ci fosse l'occhio attento di un fotografo come te, che li va ad immortalare. Questo per esempio che insetto è? Questa è una impusia pennata, è una mantide. Sul posatoio è il cappuccio del frate, una pianta invernale. Il cappuccio del frate, quindi siamo proprio nel posto giusto per raccontarlo. Bene, noi ci avviamo verso la conclusione di questa chiacchierata, per cui chiederei alla regia di farci vedere qualcuno dei tuoi scatti proprio sulle orchidee, così che possiamo spendere qualche altra parola e condividere questi fiori straordinari con il pubblico che ci sta seguendo da casa. Ecco, è come se vi facessimo un piccolo omaggio floreale, è un po' il motivo che ci spinge a proporvi queste pillole tutti i martedì. Ci piace portare nelle vostre case anche dei fiori, in questo caso sono questi fiori straordinari, le orchidee spontanee che si trovano in tutta Italia, in tutta la fascia mediterranea, ovviamente in tutto il mondo, ma sul Gargano, come dicevamo, hanno delle peculiarità tutte particolari, sia per la concentrazione di un altissimo numero di specie sullo stesso territorio, sia per le ibridazioni di cui ci parlava lo stesso Orazio tra una specie e l'altra, e sia per il fatto che ci sono anche degli endemismi. Torniamo un attimo all'immagine precedente, vorrei chiedere ad Orazio, questo è uno scatto che Orazio, eccolo, grazie, che ha fatto solo qualche giorno fa, questa che orchidea è? Questa è un'orchidea che inizia a fiorire in questo periodo, spesso la gente pensa che siano solamente primaverili le orchidee, invece no, questo qui finisce più o meno la fioritura verso il 10-15 di giugno, quindi adesso si trova in piena fioritura, è una Ofris Lacaite, vive, si può trovare dai 600 agli 800 metri, più o meno, quindi sotto quella quota non c'è, quindi se qualcuno deve andare a cercarla, deve stare su quella quota. Sì, fiorisce adesso, queste fotografie le ho fatte domenica scorsa. Esatto, e noi le abbiamo rubate, con il tuo permesso, dal tuo profilo Facebook, che invitiamo a seguire, per quanti fossero già appassionati, o si stessero appassionando all'argomento, proprio grazie a questa rubrica. Basta andare a cercare su Facebook Orazio Armillotta. Vediamo se, prima di salutarci, troviamo qualche altra orchidea di cui non abbiamo parlato. Vediamo un po', ecco, possiamo soffermarci su questa? Va bene. Che cos'è questa? È un Ofris Tentradenifera, la sottospecie si chiama Neglecta. È una specie che adesso non si trova più, perché è molto primaverile. È uno delle più precoci Ofris del Gargano. È molto appariscente e è veramente molto... Ah, per farvi un altro esempio del numero di Ofris che ci sono magari in Emilia-Romagna e soprattutto a Modena, perché io conosco la zona di Modena. A Reggio Emilia c'è solamente o uno o due esemplari di questa orchidea. È rarissimo. Quindi, c'è in Emilia-Romagna, forse magari in Romagna c'è qualcosa, ma in Emilia, cioè a Reggio Emilia, ci sono o uno o due esemplari. Basta. Qui invece basta scendere dalla macchina, fare due passi in un prato e di questa specie ne trova tantissime. Molto bene, Orazio. Noi siamo alle battute conclusive. Io ti ringrazio davvero, non solo per essere stato qui con noi stamattina, ma ovviamente per il tempo che ci dedichi durante tutto il resto della settimana e appunto in questi mesi attraverso i quali ci hai accompagnato alla scoperta di questi fiori fantastici. Per cui, ecco, mi auguro che questa collaborazione possa continuare in maniera tale da continuare ad immergerci nella bellezza del creato per entrare in sintonia con noi stessi, con il mondo che ci circonda e con chi magari, ecco, tutto questo lo ha generato. Grazie ancora, Orazio, e ci rivediamo presto. Grazie a voi. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ritorniamo di nuovo insieme. Grazie a voi.